Buonasera, professor Locatelli. Senta, le persone che sono guarite dal Covid possono riprenderlo? Mi permetta, prima di addentrarmi nei meandri squisitamente scientifici, che lei ha così magistralmente evocato, di per il mio spasmodico ringraziamento. No, non serve per... Non deve ringraziare. Questa fulgida ed esaustiva domanda che mi dà via più la possibilità di fornire ulteriori sfaccettature di risposta al suo puntuale quesito. Perfetto, grazie. Se puoi rispondere... Se potessi del tempo disporne a mia guisa, non esiterei a tornare laureando per dedicare a lei e al suo garbo la mia tesi di laurea. Evidentemente dal titolo... Cosa? L'approccio della proteina K sul metabolismo asintomatico... Addirittura mi vuole dedicare la tesi. Lungi da me, nei suoi confronti in atteggiamento eristico. Eh? Eh? Eristico. Eristico? Cosa vuol dire? Difficilmente mi vedrà traccottare... Mamma mia. ...di favella urticante contro il suo capo falbo. Guardi, non capisco né eristico né falbo. Burioni e Denzo Paolo Turchi. Ah, polemico e biondo addirittura. Le ringrazio evidentemente per aver tradotto il mio dire. Ma si immagini, guardi. Anche perché a Talluni... Sì? ...potrebbe venire l'estro... Che cosa? ...di porre nei cassettoni delle vecchie madie e della nonna... Ma cosa dici? ...i miei riproduttori spermatici... Ma no, che male. ...chiudendoli con forza... Ma no! ...nell'angola tura spigolosa del legno massello. Mamma mia, che immagine orrenda. Che poi sono difficilmente riparabili. Eh certo. In quanto l'umidità si affeziona all'antico legname. Sì, va bene. Creando un tuttino col sacchetto scrotale. Mamma mia, abbiamo capito. Però per favore risponda alla mia domanda, la prego. Le persone che hanno contratto il virus possono essere di nuovo infettate? Eh? Lo faccio alla maniera ratta. Grazie, grazie. Non prima però di ricordarle che se uscendo dallo stabile dove sta avendo il nostro simposio conferenziale... Sì, uscendo di qui... ...lo sguardo le si smarrisse nel cercare il suo strumento deporico. Strumento deporico? Cosa significa? Almeno un po' parla normale, no? Quell'attrezzo che bruciando combustibile fossile lo spinge verso un altro agglomerato urbano. La macchina, la macchina. Macchina, macchina. Perché cosa ha fatto la mia macchina? Beh, mi permetta... Sì. ...lo vi è più nettata fuori e dentro. La lavata, no. Dentro. Non deve lavarmi la macchina. È come se fosse te stai assemblata dal produttore nipponico. Addirittura nipponico. Perché ha una Nissan Qashqai, vero? No, no. Non ha Nissan Qashqai? No, ha lavato un'altra macchina. Oh, merettrice arcaica mangiatrice di pomi. Cos'è? Ah, Eva, ho capito, ho capito. Puttana Eva, ho fatto nettare un'altra vettura blu. No, 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 no.